Il Movimento 5 Stelle sarà a Lanciano compatto per dire no alla petrolizzazione dell'Abruzzo? Assolutamente sì, noi da sempre combattiamo contro questa deriva che sta distruggendo il nostro territorio e che a nome e cognome, Partito Democratico innanzitutto, ma un po' tutti i partiti che con gli ultimi governi hanno devastato e hanno detto che l'Abruzzo dovrebbe essere un distretto minerario con una devastazione del nostro territorio senza che questo porterà dei vantaggi economici per gli abruzzesi. Il Movimento 5 Stelle parteciperà a gran massa a questa manifestazione, parteciperanno tutti i parlamentari abruzzesi e non, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali e anche gran parte degli attivisti. Per noi il Partito Democratico è assolutamente incompatibile con questa manifestazione perché ovviamente il Partito Democratico è l'artefice e insieme a Renzi è l'artefice della petrolizzazione della nostra regione. Siamo da due anni a questa parte facendo massimi sforzi per fermare questa deriva petrolifera sia appunto, ripeto, a livello parlamentare che regionale che comunale e ci aspettiamo alla fine di vincerla questa battaglia. Al di là della manifestazione, secondo lei cosa bisognerà fare in futuro e soprattutto cosa chiedete anche alla regione Abruzzo in questo caso? Guardi, noi lo diciamo da due anni, c'è un solo modo per bloccare Umbrina e noi l'abbiamo proposto decine e decine di volte in Parlamento senza che però il PD votasse favorevolmente, anzi ci hanno bloccato ogni volta che l'abbiamo proposto. Una modifica della legge, bisogna modificare la legge, quindi intervenire sul testo normativo modificare la legge e bloccare non solo Umbrina ma tutte quelle petrolizzazioni che si stanno attuare e che devasterebbero appunto il nostro territorio.